Ciao, sono Marco. Nel video di oggi andremo a vedere gli strumenti per sviluppatori Elementor. Nei video precedenti abbiamo fatto un po' una panoramica di Elementor, abbiamo visto un po' anche un'anticipazione di quello che è la possibilità di quello che si può fare come sviluppatore per Elementor, quindi la possibilità di creare widget, la possibilità di creare temi e quant'altro. Nel video di oggi andremo a vedere proprio quelli che sono gli strumenti per gli sviluppatori, ovvero la documentazione e tutta l'area di aiuto che ci mette a disposizione Elementor per poter sviluppare. Direi di non perdere alcun altro tempo e andare a vedere di che cosa si tratta. Direttamente dal menu di risorse di Elementor andiamo sugli strumenti per lo sviluppatore. In questa area, come possiamo vedere, abbiamo dei tutorial che ci consentono di iniziare a capire quello che è tutto l'ambiente di sviluppo, come poter quindi estendere Elementor, come creare widget, come creare add-on per Elementor. Quindi dall'inizio come creare una nuova estensione, come aggiungere funzionalità, creare un widget o creare un nuovo controllo. Poi successivamente abbiamo la parte relativa ai componenti, quindi su quale componente vogliamo iniziare a sviluppare. Quindi abbiamo l'editor, i widget, i controlli e il finder. Quindi sono vari elementi sul quale possiamo andare a sviluppare. Poi qui abbiamo tutto il code reference, quindi quella che è la vera e propria documentazione. Quindi abbiamo tutti gli hook, le classi in PHP, i metodi e le funzioni che possiamo utilizzare e che possiamo quindi estendere per poter sviluppare appunto in Elementor. Abbiamo successivamente anche action e filtri che possiamo utilizzare. Quindi abbiamo PHP e del hook in PHP ai quali possiamo agganciarci per estendere Elementor. Stesso discorso anche in JavaScript, quindi molto molto versatile come piattaforma. Poi per quanto riguarda Elementor Pro abbiamo degli altri tutorial che servono per creare componenti, per lavorare sugli elementi Pro, diciamo di Elementor Pro. Quindi abbiamo delle APA per le form o delle APA per il TEM per i temi. Se in più vogliamo anche spingerci oltre, abbiamo la repository dove è presente su Github naturalmente, dove è presente Elementor, dove possiamo anche segnalare degli errori oppure perché no andare a contribuire tramite codice, quindi fornendo del codice oppure magari dando nuove idee. Quindi questo è un po' il centro di fatto in nucleo per quanto riguarda gli sviluppatori. Altre risorse che possiamo utilizzare sono quelle relative a WordPress, quindi il developer, la documentazione per quanto riguarda WordPress, il code reference di WordPress, il famosissimo codex di cui ho già parlato in altri video presenti sul mio canale. Poi abbiamo il progetto di Github per quanto riguarda Elementor, il forum di WordPress, la documentazione di Elementor che abbiamo già anche visto. E poi qua abbiamo un po' le parti relative al mondo Pro di Elementor, cioè le future del Pro di Elementor, i prezzi e il supporto premium per quanto riguarda Elementor. Direi che per quanto riguarda l'area sviluppatore non entriamo nei dettagli di tutto quanto perché da qua è un po' il via per iniziare a mettere mano. Magari poi scenderemo nel dettaglio in altri video su alcune parti relative allo sviluppo, magari su qualche hook, qualche classe o qualche metodo. Direi che per quanto riguarda la parte sviluppatori per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciami le scritte qua sotto nei commenti in modo tale che posso esserti d'aiuto per quanto possibile. Se comunque stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo di Elementor, Wordpress, WooCommerce, temi, plugin e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che cercavi, lasciamolo anche questo scritto così che magari posso trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi i miei prossimi video. Ciao! Ciao!